Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò a Cesina di Lanzano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo suonare quelle 19 punti, di frattempo lo faccio vedere. Questo è il campanone, questa è una menzana, di l'altro è un'altra menzana, di l'Ansella è una piccola codicella. Adesso ascolteremo il battere sul campanone e poi me lo dia a Maria di Vulde. Quindi, a presto nel World Campanaro 2008 e buon ascolto a tutti. Ciao! Grazie a tutti! Eccoli Grazie a tutti! 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 Ciao! Grazie a tutti!